Zoe Baxter, la ruota, il track, il cyclocross, non è mai finito. Sì, continuo a andare. È divertente, quindi fai ciò che fai. Se è divertente e ti piace, continui a andare. Quindi hai altri grandi obiettivi quest'anno? Sì, ovviamente il primo obiettivo del mondo è il primo obiettivo. E gli europei era un altro obiettivo che volevo avere, perché mi dà confidenza per il resto del sese e per il primo obiettivo. Quindi, sì, sono davvero felice di ottenere oggi. Non avevi alcuni obiettivi oggi? Sì, ho fatto, ma se faci un errore, ho avuto 20 secondi per alcuni, e se faci un errore, 20 secondi va davvero rapidamente, quindi è tutto il gaso tutto il tempo, e ho cercato di mantenere il gap e farlo più grande. E così ho fatto, sì. Qual è il corso di questo? Beh, al primo non credo che mi sia abbastanza, perché è abbastanza lì, non sono abbastanza lì, ma ho avuto lì, ma ho avuto lì e ho avuto lì, e ho pensato, sì, mi piace molto. Non è troppo tecnico, ma è abbastanza tecnico, e non è abbastanza lunga, quindi è come il corso di Road World, quindi, sì, mi piace molto. Quindi, grazie a tutti e vi auguro questo jersey! Grazie mille! 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 Grazie mille!